E ora la volta del Vizla Bracco di Weimar a pelo corto, Weimar Runner Kurzav Spinone italiano ruano marrone Setter irlandese Setter inglese Bracco italiano ruano marrone Ultimo raggruppamento di oggi Il vincitore accederà al Best in Show di domani Dopodiché per oggi terminano le danze Ci rivediamo domattina Il vincitore accederà al Best in Show di domani Il vincitore accederà al Best in Show di domani Il giudice li sta visionando singolarmente Ma la prassi e la medesima È il risultato lo stesso Quindi ci dirà poi i tre che andranno sul Rindonore I levrieri nel pre-ring Il raggruppamento levrieri Sarà giudicato da Alberto Cucillato Raggruppamento dei levrieri Che sarà giudicato dal giudice Alberto Cucillato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Con il raggruppamento dei levrieri Concludiamo la giornata di oggi Domani si replica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti